ecco, volevo mostrarvi come si fa invece a fare la stessa cosa con Mozilla Hubs il Mozilla Hubs in realtà è un pochino più complicato perché per poter creare un environment occorre passare obbligatoriamente da Spock ma la prima cosa è riuscire ad entrare in Mozilla Hubs hoops.mozilla.com registrarsi, quindi fare un sign in in quel caso è una cosa relativamente semplice ma un po' lunghina da mostrare qua nel senso che bisogna mettere la propria email poi lui manda un link alla vostra email e poi cliccando vi permette di entrare dentro e quello che succede è che dovete andare dentro cioè creare praticamente una non direttamente una stanza ma prima si crea sostanzialmente un template una scena, la chiamo lui e poi da questa scena si crea l'erun corrispondente questo è un filo più complicato rispetto a Spatial oppure all'altro frame VR che abbiamo visto ma in realtà è abbastanza comodo perché consente di riciclare le scene fra più stanze quindi è un pochino più ottimizzato quindi si va su Spock quindi vediamo Spock qui ci sono i progetti che abbiamo e possiamo crearne uno nuovo quindi si va sul progetto di Spock qui vedete che ho fatto già il boschetto ma lo carico ed era il boschetto in cui ho messo dentro questo oggetto ma facciamolo da capo quindi cancelliamo questo progetto e partiamo da zero New Project e New Project abbiamo anche qui la possibilità di partire da delle cose già fatte quindi partire per esempio da Wide Open Space piuttosto che delle cose già fatte oppure creare con un progetto totalmente nuovo in realtà non è completamente nuovo perché lui ci ha messo un environment GLB però ci ha messo come vedete sia un piano su cui si cammina sia uno spam point centrale sia la luce, sia Skybox e questo GLB che in questo caso a noi non interessa quindi andiamo sopra con cance lo togliamo e quindi siamo effettivamente vuoti ed è qui che noi vediamo una cosa abbastanza interessante nel senso che noi possiamo accedere direttamente a Sketchfab e qui possiamo prendere il boschetto che avevamo preso a Sketchfab prima e lo possiamo praticamente proprio trovare in un atto solo quindi per esempio c'è il boschetto Low il solito boschetto Low di Lorena che ce lo troviamo in quanto Lorena l'aveva pubblicato su Sketchfab lo prendiamo, lo mettiamo qui ad esempio e quindi lui praticamente lo mette però come vedete qui nel Properties è qui che intendevo che è un piccolo Blender ma è molto più semplice in realtà abbiamo il concetto di scala prendiamo scala 1, 1, 1 e quindi abbiamo questo boschetto e questo boschetto praticamente ce lo possiamo muovere come ho visto anche in Spatial e possiamo metterlo più o meno sopra, sotto in piano, terra e quindi lo facciamo in modo tale che coincida con il ecco, più o meno così e dobbiamo solo fare attenzione a dove compare praticamente il nostro Spawn Point Spawn Point cliccando qua vedete che è un po' lì quindi il Spawn Point è un pochino messo male nel senso che compare dentro un laghetto e noi lo alziamo un pochino e lo spostiamo praticamente in un posto beh, anche sopra il laghetto adesso per semplicità in realtà voi potete spostarlo dove volete quello che diciamo alcuni su internet, su Facebook è che non è facilissimo da spostare, da individuare però non è neanche complicato quindi questo qui è praticamente lo Spawn Point e voi potete praticamente muoverlo praticamente con le forcine ad esempio lo mettete qui proprio lo mettiamo qui praticamente ah ecco, praticamente adesso è in aria no, è troppo basso quindi lo mettete praticamente che pare al bordo del laghetto vicino a cosa c'è qua sì, vabbè, vicino a queste cose quindi lo mettiamolo magari un pochino più in qua ok quindi in modo tale che ecco, a questo punto questa cosa qua è già pronta è già pubblicabile in realtà e si pubblica con Publish to Hubs quindi facciamo Publish to Hubs e gli diamo un nome diciamo Boschetto Lorena facciamo un save the project lui quando ci fa vedere il boschetto in realtà a un certo punto ci dovrebbe dire tante cose per cui l'attribution che tra l'altro compare in questo caso automaticamente perché essendo preso Sketchfab lo fa apparire lui eventuali altre attribuzioni la possibilità per altre persone di modificare e la richiesta a Mozilla di eventualmente di fare pubblicità noi diciamo che facciamo normalmente così facciamo seven publish lui ci fa vedere quanto è buona questa scena quindi ad esempio qui ci esplora quanto è grande sappiamo che c'entra anche su Mozilla Hubs questa cosa ma lui ci dice che fondamentalmente forse qui ci sono troppi materiali però insomma medium non è rosso quindi diciamo che va bene facciamo il publish della scena la scena essendo lo poly va su abbastanza velocemente la scena non è però ancora il vostro oggetto deployato quindi dovete fare view your scene scena e a questo punto però per poterci entrare dovete creare una stanza che implementa quella scena fate un create room ora se avete già la scena già fatta create direttamente la room ed è come vedete istantaneo cioè praticamente si attacca la room ti fa vedere più o meno come verrebbe e una volta che lui gli è dato praticamente un nome ad esempio l'avish antique camp facciamo join room e qui specificate il nome del vostro avatar fate accept con cui entrate entrate nella stanza e qui siete direttamente dentro dentro il vostro boschetto e questo è sempre un pochino più complicato ma non più di tanto se siete i proprietari di questa come in questo caso di questa stanza oppure se volete che qualcun altro ci entri è sufficiente che prendiate l'indirizzo che trovate in alto o kubs e poi vedete c'è apkjge che è leggermente piccolo in modo tale da poter essere da arrivarci anche da meta quest e potete poi andare praticamente in un nuovo browser ci mettete questo indirizzo e a questo punto dovrebbe chiedervi dovrebbe consentirvi di caricare la scena di caricare gli oggetti della scena e di ricollegarvi alla scena e qui anche in questo caso c'ho il problema del microfono doppio quindi praticamente devo chiudere questo e poi ricollegarmi di là ok e a questo punto sono entrato praticamente senza log senza niente questa e c'ha tutte le collisioni posso navigare posso fare quello che vuole rispetto a Spascial questo sistema è allora da un lato c'è Spoke che è una leggera complessità dall'altro è leggermente più grezzo nel senso che non è progettato per applicazione professional ma è comunque adeguato per quello che si vuole fare e il problema anche che vedremo anche con Cospace che è facilissimo da fare anche con Cospace invece che il il Cospace permette solo una persona per volta di entrare in questo ambiente mentre invece tutti questi sistemi che abbiamo visto fino adesso consentono di avere n persone che interagiscono parlano chiacchierano e quindi riescono a collegarsi tenete conto che comunque in generale più di 10-15 persone non riescono a entrare contemporaneamente per problemi vincoli e limiti del MetaQuest e di questi mondi soprattutto del MetaQuest che in un cellulare si hanno dei problemi però direi che abbiamo visto parecchio che in un cellulare che in un cellulare